Ogni piantina diventerà un albero, simbolo del rispetto della natura per salvaguardare ambiente e salute. Una quercia e un carrubo sono state donate dai carabinieri all'ospedale Tatarella di Cerignola nel Foggiano, unico presidio pubblico in Puglia tra i 30 in tutta Italia. Se tuteliamo la più grande componente che è sul pianeta Terra, che è rappresentata dal mondo vegetale, noi tuteliamo il miglior antivirus esistente, tuteliamo l'assicurazione sulla vita. Quindi è importante questa giornata per trasmettere un messaggio, un messaggio di tutela, di attenzione, di conservazione dei beni naturali, delle risorse naturali che purtroppo a seguito dell'azione dell'uomo si stanno riducendo. Quindi noi come Arma dei Carabinieri promuoviamo questa giornata, promuoviamo lo sviluppo di pratiche attente, di un uso razionale delle risorse. Siamo abituati ad affrontare l'uomo malato nella sua complessità, come si dice, con un approccio olistico che tiene conto di tutte le componenti, di tutti gli organi ammalati, non di un solo organo o di una sola malattia. E questo giustifica anche perché la nostra società di internisti ospedalieri, la Fadoi, ha insieme con i Carabinieri organizzato questo tipo di evento. Prima di tutto viene il diritto alla salute e il diritto alla salute si rispetta prima di tutto rispettando l'ambiente. È un messaggio che dico universale che ovviamente noi dobbiamo riportare nella nostra città, nelle nostre vie, nelle nostre piazze. Grazie. Grazie.